buongiorno a tutti cosa andiamo a fare nel video di oggi allora andiamo a fare una cosa un po' anomala visto che tutti quanti tendono a provare le ultime moto di credo quelle novità le più recenti noi andremo a provare una moto che addirittura è andata fuori produzione una Yamaha Tenere 1200 la moto del mio compagno di Scoriband e Walter allora la moto diciamo che me l'aspettavo più pesante una moto un po' non dico inquidabile per carità però pesantone diciamo che il peso c'è perché è una moto che pesa intorno ai 250 kg non sono proprio pochi però però è molto molto guidabile non me l'aspettavo la moto stabile una moto morbida da portare devi guidare la tonda non è una moto da peace path però da turismo una cosa eccezionale ripara bene non è rumorosa è molto ben ammortizzata la sella è ottima la postura perfetta oserei dire la bel motore è una roba infinita ragazzi il motore non me l'aspettavo una cosa 112 cavalli però distribuiti versi bassi prende bassissimo dai 1500 giri va su senza scalciare senza nessuna incertezza possente ma morbida valore aggiunto del motore è una cosa impressionante consumi diciamo contenuti non consumare una moto non consuma tanto riesci a farci tranquillamente venti con un litro se non scanni venti due bellissima comunque bando le ciance su in sella via fuori del bar e andiamo in moto a un 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 Grazie a tutti. Oh, proviamo il Tenerè 1200. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti.